Medici in diretta Approfondimento settimanale in collaborazione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Medici in diretta in collaborazione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna Oggi il nostro ospite Giordano Molteni, primario dell'unità operativa di Otorino Laringoiatria Buongiorno dottore, benvenuto Buongiorno a lei signorina, buongiorno a tutti i radioascoltatori Dottor Molteni, l'udito è uno dei cinque sensi del corpo umano che ci permette di ricevere gli stimoli esterni Quante persone soffrono di problemi all'udito? Beh, le persone che sono interessate da problemi dell'udito, da un calo di udito, da una ipoacusia Sono molti, spesso vengono identificati come luogo comune nelle persone anziane Ma qualsiasi età della vita dell'uomo può presentare problemi dal punto di vista uditivo Quando si parla di ipoacusia appunto? Si parla di ipoacusia che a seconda della perdita dell'udito può essere lieve, media, grave o profonda Quando appunto c'è un calo dell'udito E le cause? Le cause possono essere molteplici Una perdita di udito può essere dovuta a processi infiammatori che vanno a ledere, a provocare un danno all'orecchio Può essere dovuta a forme addirittura congenite, può essere dovuta a forme ereditarie Come ad esempio una patologia che va a interessare la catena ossiculare che è l'ortosclerosi Può interessare strutture nervose più interne dell'orecchio E quando arriva il momento di ricorrere alla chirurgia? Beh, innanzitutto va detto che la perdita di udito, l'ipoacusia, non sempre può essere curata o sistemata facendo un intervento chirurgico L'intervento chirurgico serve quando c'è l'interessamento di alcune strutture dell'orecchio Che riguardano la parte esterna e la parte media dell'orecchio La parte più interna che riguarda le strutture nervose dell'orecchio non è ancora recuperabile dall'attuale e moderna chirurgia dell'orecchio Ecco dottore, ci sono diversi fattori, spiegava prima, alcune persone lavorano in ambienti molto rumorosi Cosa si può fare sul luogo di lavoro e quali presidi deve utilizzare un lavoratore? Ecco, allora va precisato che una delle cause della perdita di udito potrebbe anche essere così il trauma acustico Cioè il vivere e il lavorare in un ambiente molto rumoroso Anche il non lavorare in fabbriche molto rumorose Con il tipo di vita a cui quotidianamente siamo costretti a vivere, ad immergerci Può provocare dei danni uditivi Ovvio che per chi lavora in ambienti rumorosi, in fabbriche dove l'intensità del suono è molto elevata Si possono essere provocati dei danni acustici alle strutture nervose dell'orecchio Alla chiocciola, ad esempio, portando un danno uditivo che diventa irreversibile E alla quale bisogna ricorrere poi successivamente a dei rimedi che potrebbero essere Ma potremmo parlarne dopo, alla protesizzazione acustica Ecco dottore, abbiamo detto ambienti rumorosi Ormai oggi si usa tantissimo il cellulare Può essere un fattore di rischio anche questo? Certo, anche il cellulare è un fattore di rischio Per quanto riguarda, le chiedo scusa, il discorso sull'ambiente di lavoro Ovvio che ci sono tutta una serie di rimedi che sono legati all'utilizzo di ausili Che la legislazione in questo settore stabilisce, codifica Facendo mettere a disposizione di chi lavora determinati ausili Che sono le cuffie per insonorizzare l'orecchio E dei pannelli fonoassorbenti per insonorizzare l'ambiente Per quanto riguarda la domanda sull'uso del cellulare È ormai scontato, ci sono degli studi fatti dai soliti americani Ma da tanti gruppi sparsi in tutto il mondo che si occupano di questa problematica Che dicono che l'uso, l'abuso del cellulare può portare dei danni Anche dei danni molto seri Di conseguenza, una delle indicazioni per prevenire tutta una serie di problematiche Legate all'uso smodato del cellulare Che nell'arco degli anni, sì, di molti anni Ma può essere quello addirittura di portare all'instaurarsi di patologie serie Quali patologie tumorali Le indicazioni per evitare questo tipo di problematiche È quello di essere, di usare il cellulare per tempi non molto lunghi Addirittura viene consigliato di usare il cellulare Mettendo gli auricolari Perciò di non tenere l'apparecchio Per un discorso di onde elettromagnetiche A contatto con l'organo uditivo Altra tendenza, soprattutto tra i giovanissimi Avere la musica, costantemente le cuffiette ad altissimo volume Ma anche ambienti, per tornare anche al discorso degli ambienti che si frequentano In questo caso non per lavoro, ma per divertimento Come le discoteche, dove ci sono dei volumi molto alti Cosa fare in questo senso? Beh, è sempre stato luogo comune per tutte le generazioni di giovani Ovviamente frequentare ambienti molto rumorosi Che possono essere le discoteche o le sali dove si fa musica O i concerti, dove il livello del suono è anche molto elevato Oppure, in questi ultimi decenni, utilizzare gli apparecchi per sentire la musica Direttamente introducendo le cuffiette o gli ausili all'interno del condotto uditivo Diventa difficile dare dei consigli Perché forse il consiglio potrebbe essere quello di frequentare magari meno ambienti di questo tipo Ma capisce che diventa problematico Riuscire a condizionare o far capire magari ai ragazzi di non stare tante ore in discoteca O di non utilizzare questi apparecchi per la musica Ad un livello elevato di decibel all'interno del condotto uditivo esterno E perciò direttamente a contatto con le strutture più interne tra le quali il timpano Ecco dottore, un consiglio che possiamo dare magari agli ascoltatori che ci sta curando in questo momento E che riguarda l'igiene Quanto può contribuire a mantenere l'orecchio sano? Innanzitutto bisogna far riferimento che uno dei problemi anche di una perdita di udito Possono essere sì le cattive condizioni igieniche Ma le cattive condizioni igieniche che spesso possono determinare o favorire l'insorgenza di infezioni E infezioni dell'orecchio ripetute possono sì portare a un danno ad alcune strutture dell'orecchio Partendo dalla membrana timpanica alle strutture retrostanti Fino ad arrivare per cause virali o anche batteriche a lesioni di strutture più nobili Che sono le strutture nervose dell'orecchio Benissimo dottore, noi ci dobbiamo separare per qualche istante Alcune comunicazioni da parte dell'azienda ospedaliera Sant'Anna E poi torniamo ancora in sua compagnia Benissimo, grazie Ed eccoci ancora qui amici di Medici in diretta Siamo sempre in compagnia del dottor Giordano Molteni Ci ha spiegato tantissime cose riguardo all'ipocusia I problemi legati magari all'ambiente di lavoro Ai danni che possono provocare ambienti troppo rumorosi per l'udito Anche il discorso dell'eccessivo uso dei telefoni cellulari Dottore, anche tante persone magari viaggiano spesso in aereo Può essere pericoloso l'altitudine? Può essere pericolosa per l'orecchio? Così come, non so, magari le immersioni subacquee Possono anche queste creare danni? Certo, possono creare dei problemi in questo senso L'andare a determinate altezze, perciò con l'aereo O immergendosi nel mare o nel lago a determinate profondità Fa sì che comunque contro la membrana del timpano Agisca una certa pressione Questa pressione deve essere compensata dall'interno E perciò in un canale virtuale che va dal naso Attraverso la tuba di eustacchio Che è il canale che va dal fondo della cavità nasale Alla cassa timpanica Bene, la tuba di eustacchio deve essere libera E deve essere pervia Ovvio che andando in aereo In situazioni in cui esistono stati infiammatori Come il raffreddore banale o un'infiammazione della tuba Diventa difficile poter compensare la pressione esterna E di conseguenza spesso si va incontro a problemi Del famoso mal d'orecchio Che può concretizzarsi addirittura in forme di otite barotraumatica Che consigli possiamo dare? Quali raccomandazioni magari, dottore? Beh, le raccomandazioni sono quelle di cercare Prima di ogni viaggio in aereo Ad esempio avere possibilmente non stati infiammatori acuti E perciò di prevenire questi Magari anche facendo uso di farmaci Che possono essere antinfiammatori o decongestionanti nasali Per poter permettere questa compensazione Se uno affronta un viaggio E non ha degli stati infiammatori Perciò apparentemente non ha rischi Quindi un rimedio per evitare questo tipo di problema Potrebbe essere quello ormai conosciuto da tutti E entrato nel luogo comune Di masticare il famoso chengum In modo tale da aumentare la salivazione Di conseguenza di favorire la deglutizione E conseguentemente l'apertura della tuba di eustachio E evitare questi problemi di dolore Durante la fase di salita dell'aereo O la fase di discesa dell'aereo Ecco, più in generale dottore Questi erano consigli per chi si sposta in aereo O comunque per chi fa immersioni subacquee Ci ha spiegato un pochino Che precauzioni prendere in questo senso Ma come si può preservare la capacità uditiva nel tempo? Beh, la capacità uditiva nel tempo Va detto che esiste comunque una situazione Che è fisiologica e che diventa poco preservabile Nel senso che con il passare degli anni Comunque c'è un calo uditivo Oltre i 65 anni Il 30-35% della popolazione Può avere un calo uditivo Fisiologico Legato a un invecchiamento Delle cellule ciliate Contenute nell'orecchio Contenute nella chiocciola Perciò nell'orecchio interno Questa situazione che si identifica In un termine comune Che si chiama presbiacusia È dovuta all'età E questo diventa difficilmente controllabile Invece quando è necessario Utilizzare un apparecchio acustico? Da noi, nel nostro paese È luogo comune che l'apparecchio acustico Lo debba utilizzare la persona anziana Anzi spesso si identifica Metto l'apparecchio perché sono anziano Invece la protesi acustica Deve essere messa tutte le volte A prescindere dall'età In cui c'è una diminuzione di udito Questo discorso riguarda i bambini O i ragazzi che hanno problemi uditivi Anche importanti Durante la fase di apprendimento Che è la fase scolastica Ma qualsiasi fascia di età È chiaro che man mano che ci avviciniamo A un'età che va oltre 60 o 65 anni Come dicevo E cominciano a esserci problemi Legati all'invecchiamento In questo caso il discorso è quello di Uno dei rimedi È quello di mettere una protesi acustica Ecco dottore Ci diceva prima C'è se non aveva i bambini Ci sono bambini che proprio nascono Con problemi all'udito Quanti sono nel comasco? Che percentuale avete voi qui? Beh, non sono dei numeri Vive Dio Molto elevati Tenga presente che nella nostra azienda Nascono all'incirca Credo sia giri sui 2000 bambini all'anno Tutti i bambini da ormai molti anni Per una collaborazione Che ripeto va avanti da anni Tra l'unità operativa da Mediretta E la neonatologia Tutti i bambini vengono visti Appena nati e vengono scrinati Facendo uso di apparecchiature sofisticate Ormai nella nostra azienda In uso da tanti anni Che è l'utilizzo delle otto emissioni acustiche Noi vediamo tutti i bambini E questo esame di screening Ci mette nella condizione Di capire se c'è un problema Oppure se non c'è Questo non significa che il bambino Ha problemi di udito importanti Ma se non risponde a questo screening Significa per noi Non lasciar perdere la questione Ma tenere monitorato nel tempo Il bambino Nel 2013 abbiamo appunto visto Circa 2000 bambini 2000 bambini nati 1960 per l'esattezza E di questi bambini Bambini con problemi Di perdita di udito importanti Che necessitavano di una protesizzazione Dai nostri numeri Sono risultati solamente due Come diceva lei Fortunatamente non sono numeri elevati No, fortunatamente non sono Ma anche perché Questo tipo di problematiche Potrebbero non diventare risolvibili Da un punto di vista chirurgico La chirurgia dell'orecchio Che è una chirurgia ormai Da molti anni Precisa, sofisticata Con attrezzature importanti Ci permette normalmente Di porre rimedio A lesioni Dovute a strutture Dell'orecchio Dell'orecchio medio Perciò riguardanti Danni della catena ossiculare O della membrana timpanica Ma difficilmente rimediabili Se c'è l'interessamento Delle strutture più interne E perciò delle strutture nervose Chiocciola o nervo acustico Ecco dottore Ci accennava proprio A una collaborazione stretta Con anche altri reparti E comunque è una caratteristica Del Sant'Anna E che nel corso di questa trasmissione Abbiamo presentato anche I nostri ascoltatori Che ci segue Proprio un'equip di più esperti Che si confrontano Ma voi a Sant'Anna Per quel che riguarda Le problematiche dell'udito Quali ambulatori avete E come bisogna accedere Cioè le persone che necessitano Di una visita Come devono fare Allora prima parlavo Dei bambini Che noi vediamo Sistematicamente alla nascita E questo è ovvio Che vengono direttamente Dal reparto di natologia Accedono Alla unità operativa Di Otorino In questo caso Al servizio di audiologia Ma chiunque Ha un problema Di tipo uditivo Può Avere come punto di riferimento La nostra unità operativa E i nostri servizi Dove ci sono comunque Dei medici specialisti Che valutano in prima istanza I problemi dell'orecchio E vedono qual è la situazione E poi abbiamo Tutta una serie di servizi Che fanno riferimento Al settore Dell'audiologia Dove abbiamo Degli apparecchi Anche sofisticati Che ci mettono Nella condizione Di capire Qual è il problema Della persona Che abbiamo di fronte Se è un problema Rimediabile Da un punto di vista Chirurgico Da un punto di vista Farmacologico O da un punto di vista Protesico Benissimo dottore Io la ringrazio tantissimo E' stato oggi qui con noi Grazie allora Al dottor Giordano Molteri Mi ricordo che Per informazioni Agli esperti Che ci stanno facendo compagnia Nel corso di queste puntate Di Medici in diretta Attiva anche la mail Medici in diretta Chiocciolaciocomo.it L'appuntamento E per venerdì prossimo 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 Grazie a tutti.